Con i campionati italiani assoluti di Società Finale B in programma per questo fine settimana ad Agropoli il 18 e il 19 settembre, la magia della grande atletica torna nella città. Oltre 20 squadre provenienti da tutta Italia, centinaia di atleti pronti a sfidarsi in una due giorni di grande sport sull'azzurro della pista Pietro Mennea per portare in alto il nome della propria società di appartenenza, uno staff giovane ma con un importante bagaglio di esperienza pronto a tutto per accogliere al meglio atleti, tecnici ed accompagnatori. Sabato e domenica, 18 e 19 settembre, sulla pista Pietro Mennea ad Agropoli, i campionati italiani assoluti di Società Finale B.